ciao a tutti oggi andiamo a vedere cosa succede cosa ci succede quando indossiamo una mascherina tutte le mascherine hanno lo stesso scopo quello di filtrare l'aria o in entrata o in uscita o in entrambe le direzioni ovviamente lo fanno in maniera molto diversa a seconda del tipo di mascherina ad esempio queste sono mascherine che ho comperato in cartolleria per i miei bimbi sono semplicemente cotone a cui uno può applicare un filtro questa è una mascherina che ho trovato nella casa della posta donata diciamo dal comune o mascherine dedicate c'è un filtro più tecnico ed ovviamente anche la capacità filtrante è notevolmente diversa o semplicemente una stoffa che uno va ad utilizzare per coprirsi il naso e bocca tutti questi oggetti di fatto creano una resistenza al flusso e questo può creare dei problemi che adesso andiamo a vedere tutte le nostre cellule necessitano continuamente di ossigeno e lo usano come comburente per ossidare i nutrienti che derivano dall'alimentazione che è il nostro combustibile in altre parole noi mangiamo del carbonio ridotto ad esempio un buon panino e lo bruciamo grazie all'ossigeno che deriva dalla respirazione questa combustione avviene attraverso numerose reazioni esotermiche di ossido riduzione sono reazioni che liberano energia e nella fattispecie una molecola che si chiama ATP che è la molecola energetica delle nostre cellule tutto questo complesso processo libera però ha bisogno di eliminare una molecola che è l'anidride carbonica che è la CO2 e questa in ultima istanza deve essere eliminata attraverso l'espirazione il controllo costante e molto preciso della concentrazione di ossigeno e anidride carbonica nel sangue è fondamentale per la nostra sopravvivenza ci sono dei nuclei specifici per tale scopo e li troviamo a livello del tronco encefalico che parte del sistema nervoso centrale queste strutture raccolgono informazioni anche da zone un po distanti ad esempio l'arco aortico dove ci sono dei recettori che appunto misurano costantemente la concentrazione la concentrazione di ossigeno e anidride carbonica nel sangue arterioso e mandano queste informazioni attraverso dei nervi sensitivi dedicati a questi nuclei del tronco encefalico queste informazioni vengono elaborate e vengono utilizzate per calibrare i volumi respiratori e la frequenza respiratoria perciò poi di fatto da questi nuclei partono dei segnali motori ai muscoli inspiratori ad esempio gli intercostali esterni o al diaframma che un altro anzi è il principale muscolo inspiratorio che abbiamo andiamo ad analizzare cosa succede ad una persona sana se andiamo ad alterare il sistema ventilatorio aumentandone le resistenze ad esempio utilizzando una mascherina che filtrando l'aria di fatto ne ostacola anche il passaggio sia in entrata che in uscita questa situazione è ben descritta sui libri di fisiopatologia dello sport infatti l'aumento delle resistenze ventilatorie veniva usata come strategia per simulare l'allenamento in quota ricordo quando insegnavo a scienze motorie qualche anno fa se ne parlava spesso perché sembrava potesse essere una strategia molto promettente l'idea di base è la seguente e mira a risolvere un problema che che è questo come poter allenare ad esempio un atleta di endurance che vive in una città a livello del mare ad esempio una città come trieste come se si allenasse in quota in montagna ad esempio l'allenamento in quota ha un notevole vantaggio perché c'è minor pressione atmosferica e questo fa sì che ci sia una maggior produzione di eritropiletina che è un ormone che fa aumentare poi il nuovo di globuli rossi ed è questo che crea il noto e molto ricercato vantaggio aerobico perciò la problematica è questa come posso allenare uno che vive a livello del mare come se ci allenassimo in montagna ovviamente non si può cambiare la pressione atmosferica ma si può far indossare l'atleta una mascherina e con delle valvole che regolino che facciano una resistenza sia in entrata che in uscita dell'aria dico subito che queste maschere non fanno l'effetto desiderato perciò non fanno aumentare l'eritropiletina ma succedono varie cose che ci possono interessare a noi oggi e sono ben descritte in vari articoli scientifici che parlano appunto di questo ad esempio questo l'effetto del di queste maschere sulla capacità aerobica sulla funzione polmonare e sui valori sui parametri ematologici ovviamente gli autori descrivono tutto come giustamente fare ogni singolo punto cosa succede cosa fa l'atleta che allenamento è stato fatto leggerlo secondo me almeno in questa situazione abbastanza noioso vi faccio proprio un riassunto innanzitutto gli autori sottolineano il fatto che queste maschere non donano l'effetto sperato desiderato che è l'aumento dell'eritropiletina del sangue di fatto non possono essere usate in maniera razionale per simulare l'allenamento in quota poi aggiungono che c'è un aumento del lavoro di alcuni gruppi muscolari ad esempio tutti i muscoli respiratori sia inspiratori che respiratori e questo è abbastanza logico aspettarselo nel senso che se io metto delle resistenze al flusso ventilatorio dovrò vincere queste resistenze con del lavoro meccanico che sarà dato effettivamente dai muscoli che espandono la labia toracica che sono i muscoli inspiratori e poi dei muscoli che riducono i diametri toracici che sono i muscoli espiratori perciò diaframma intercostali scaleni tutti questi muscoli dovranno fare più lavoro meccanico gli autori poi indicano scrivono descrivono tutta una serie di segni e sintomi fisiopatologici nel caso in cui l'allenamento sia molto intenso ipercapnia o un aumento della concentrazione di anidride carbonica del sangue e anche questo è un parametro che uno un po se lo aspettava già se io vado a mettere una mascherina naso bocca qui l'aria che inspiro e va giù fino agli alveoli polmonari non sarà aria fresca fresca pulita pulita ma sarà parzialmente un po contaminata dall'espirazione precedente perciò avrà una concentrazione di ossigeno minore e una concentrazione di anidride carbonica maggiore e questo non facilita gli scambi tra sangue e aria perciò uno si ritrova con un po di ipercapnia perciò un aumento della concentrazione di anidride carbonica nel sangue aumento della frequenza cardiaca anche questo è un parametro abbastanza logico se non altro perché devo fare la loro di più i muscoli respiratori iperventilazione perciò il numero di atti ventilatori e anche il volume è un pochino maggiore rispetto alla stessa attività fatta senza maschera ovviamente dispnea questa sensazione di fame d'aria c'ho un tappo davanti naso e bocca è ovvio che questo anche questo sintomo non mi non lo trovo incoerente aumento della pressione arteriosa spasmi muscolari sensazione di stanchezza ok aumento della temperatura centrale anche questo altro parametro abbastanza logico noi quando espiriamo perciò quando l'aria esce non buttiamo solo fuori anidride carbonica tale quale ma buttiamo fuori anche buttiamo fuori gas a una temperatura più alta rispetto a quella dei gas che vengono inspirati perciò la respirazione o meglio l'espirazione soprattutto durante l'attività fisica viene è uno strumento per dissipare calore viene meno ed è perciò un leggero aumento della temperatura centrale propensione ad aritmia qui bisogna starci un attimo attenti perciò le persone che sanno delle problematiche cardiache non è il caso che si allenino con questo genere di maschere disorientamento senso di in realtà crisi di panico anche queste problematiche cognitive possono succedere non bisogna mai fidarsi di ciò che si legge nemmeno in letteratura scientifica bisogna sempre cercare di sperimentare tutto ciò che ci è possibile sperimentare per questo motivo ho fatto correre fabio con varie mascherine per andare a verificare tutto ciò che possiamo noi verificare andiamo a vedere cosa cosa ci racconta fabio io in questi giorni ho avuto modo di provare vari dispositivi di protezione durante la corsa e ora vi dirò quelle che sono state un po' le mie sensazioni qual è stata la mia esperienza allora io ho provato in primi su un full hard il quale non mi ha dato nessun problema se non una lieve sensazione di disagio sulla cute poi ho provato una mascherina molto leggera priva di filtro la quale mi ha dato anch'essa un lieve disagio alla cute e sicuramente sentivo avvertivo come l'aria non fluisse più liberamente questo senso di non autenticità del respiro anche questo sicuramente va sottolineato poi ho provato una mascherina molto più grossa con anche il filtro la quale invece dava una sensazione di disagio abbastanza intenso sulla cute sicuramente in più una grande umidità che si avvertiva anche durante l'ispirazione e poi aumentando un po' il ritmo della corsa specialmente durante le salite ho avvertito anche sensi di dispnea, di fame d'aria e anche cardiopalmo concludendo mi dovrebbe da dire che attività motoria e mascherine non vanno d'accordo a meno che uno non voglia rinforzare i muscoli respiratori tutti gli altri parametri sono palesemente negativi non conviene praticare attività motoria con la mascherina sono consapevole che c'è il problema del virus ma mi verrebbe da aggirarlo in un'altra maniera se uno vuole praticare attività motoria soprattutto se la vuole fare in maniera intensa deve trovarsi uno spazio isolato dove può praticare senza nessun pericolo di contagiare o essere contagiato inoltre per sottolineare questo aspetto non ho trovato nessun riferimento bibliografico in letteratura scientifica che evidenzi la reale capacità delle mascherine di proteggere proteggerci dalle infezioni virali durante l'attività motoria anzi viene sottolineato che la mascherina tendenzialmente perde di efficacia quando diventa umida e penso che è abbastanza semplice capire che durante un'attività fisica soprattutto se intensa la mascherina diventa un pochino bagnata io finirei così e grazie a tutti